Io sono all'interno dell'azienda dal 1985, da quando ho iniziato a lavorare io la sanità è profondamente cambiata, per esempio penso solamente all'approccio di cura tipo la presa in carico del paziente, la medicina di iniziativa, l'idea che si è piano piano sviluppata e sta andando avanti delle case della salute, episodi ce ne sarebbero tanti, mi viene in mente come prima cosa il terremoto, credo che chiunque di noi l'ha vissuto sia come cittadino che come operatore questo evento abbia lasciato un segno molto profondo, è stato un periodo in cui c'è stato veramente bisogno di tirar fuori tutte le risorse, sia materiali ma anche psicologiche, umane, eccetera. Devo dire però che questa esperienza ci ha insegnato anche molto, ci ha insegnato che nelle situazioni così di emergenza si riescono a inventare anche modelli organizzativi e soluzioni che nella routine quotidiana non vengono in mente, insomma ecco, quindi a suo modo anche quello è stato un momento importante, un momento che ha insegnato comunque qualcosa. Sicuramente tutti i collaboratori con i quali ho avuto modo di lavorare nel corso della mia carriera, un ringraziamento particolare anche alla direzione generale perché mi ha dato l'opportunità di crescere e di fare queste diverse esperienze nell'ambito della sanità. Auguro lo sviluppo, lo sviluppo di tutto quello, di tutta la carne che c'è al fuoco, lo sviluppo delle case della salute, lo sviluppo della presa in carico dei pazienti, lo sviluppo di quei concetti generali che se applicati in modo davvero ubiquitario dovrebbero sicuramente servire a migliorare molto la qualità dell'assistenza, già di livello elevato ma c'è ancora molto spazio per migliorare.